Tornare in uno stadio che rievoca brutti ricordi per i colori bianco-verdi potrebbe essere uno stimolo in più. L'ultima volta Cesena infatti fu 3-0 per i padroni di casa con il seguente esonero di Domenico Toscano e l'avvento di Walter Novellino. Al Manuzzi circa 400 tifosi bianco-verdi potranno assistere alla gara con una buona dose di tranquillità per la stagione appena cominciata e guarderanno i lupi andare all'assalto di un Cesena poco convincente, sterile in attacco e con un solo punto in classifica. I bianconeri di Camplone ovviamente sono feriti nell'orgoglio soprattutto perché il pubblico Cesenate non è disposto ad assistere ad una stagione di sofferenza. Novellino dopo la roboante vittoria contro il Foggia per 5-1 schiererà 10 undicesimi della formazione titolare vista sabato fatta eccezione per Migliorini che per un guaio muscolare ha dovuto rinunciare alla trasferta in Emilia Romagna. Al suo posto giocherà Marchizza che si prepara così al debutto assoluto in maglia bianco-verde. Il centrale romano avrà l'occasione di mettersi in mostra e sa bene che il tecnico Irpino punta molto su di lui. Giocherà al fianco di Swagger con la Verone a destra e il confermato Falasco a sinistra, ex di turno, che giocherà a causa dell'infortunio corso arrizzato che ha dovuto saltare anche la partita contro il Foggia. Questi quindi gli interpreti a proteggere la porta, ancora una volta difesa da Lezzerini che vince il ballottaggio contro Radu. A centrocampo niente turnover perché per Novellino è la continuità il segreto del successo. Di Tacchio e D'Angelo e due centrali per dare qualità e quantità al reparto che vedrà sfrecciare sulle fasce Molina e Bidaoui. In avanti nessun dubbio Morosini e Dardemagni autori di una doppietta a testa contro i Satanelli. L'Avellino dovrà approcciare la partita del Manuzzi con determinazione per mettere subito le cose in chiaro, così come vuole il suo allenatore. Dobbiamo dare continuità al gioco senza trascurare la cattiveria agonistica, senza quella non si vada da nessuna parte. Però essere caparbi, essere concentrati, perché andiamo ad affrontare una squadra che ha tutto per far bene anche lei. Grazie a tutti.